buongiorno buongiorno signore e signori ragazze e ragazzi oggi vi parlerò di amyv augusta ma prima mi presento sono chiamo marcello secco faccio questi video per passione delle moto e quindi giornalmente pubblico un video quindi se sei interessato come me al mondo delle moto interessata ti chiedo di iscriverti al canale in modo da essere sempre di più e attivare la campanella per essere sempre aggiornata o aggiornato oggi voglio parlarvi di mv augusta f3 800 rr del 2022 il motore della mv augusta f3 800 vediamolo qui nell'immagine vediamolo qui nell'immagine è un tre cilindri quindi un motore abbastanza inusuale però una moto sportiva appunto quindi da dalla sua la ricerca della leggerezza è un tre cilindri sicuramente è più leggero di un quattro cilindri dei 798 centimetri cubici bialbero testa e raffreddato a liquido naturalmente la potenza di 148 cavalli e 13.000 giri al minuto e la coppia di 88 newton metro a 10.600 giri al minuto il telaio tubolare è a traliccio ed è in acciaio ad alta resistenza la forcella della marzocchi oleodinamica a stelle rovesciati da 43 mm con sistema di regolazione esterno e separato del freno in estensione in compressione e nel precarico della molla e l'escursione da 125 mm la sospensione posteriore è formata da un mono ammortizzatore della sax regolabile in estensione e sempre compressione nel precarico della molla e un'escursione di 123 mm il materiale del forcellone che è un monobraccio è in lega di alluminio che qui vediamo bene nell'immagine il freno anteriore è formato da un doppio disco della brembo da 320 mm mentre il freno posteriore è un disco singolo da 220 mm le ruote sono da 17 pollici e il serbatoio una capacità di 16,5 litri con un peso a secco di 173 kg quindi è una moto molto performante sportiva naturalmente molto sportiva che rappresenta l'essenza della moto sportiva proprio perché mv agusta è sempre stata pioniera in questo questo campo vi ricordo con i mondiali vinti da giacomo agostini negli anni 70 quindi si mantiene a livelli di eccellenza naturalmente fornendo prodotti che sono eccellenti quindi anche di costo relativamente alto bene quindi se vi è piaciuto mettete un like se non vi è piaciuto dislike iscrivetevi al canale e attivate la campanella in modo da essere costantemente aggiornati ciao grazie a tutti e buona giornata